Ciao raga, parliamo di un po' di novità Primark almeno alcune cose non sono novità alcune sì, allora c'è già da un po' di tempo Love Your Smile Whitening questo qua è un dentificio che devo ancora provare, lo dico per far diventare i denti più bianchi dice che è approvato dall'associazione dentale internazionale c'è questo simbolo qua, non so se vi possa interessare sono 25 ml, quindi è il formato piccolino e ve lo vendono al costo di 1 euro allora, vediamo un po' le attenzioni mantenere fuori dalla portata dei bambini, vabbè non adatte i bambini di tempo inferiore a 12 anni e ci credo se hanno ancora i denti da latte continua a 0,32% di massa di fluoruro di sodio prodotto in Cina e quando mai? me lo aspettavo 12 mesi questi sono gli ingredienti vabbè, io comunque l'ho comprato, lo voglio provare poi vi farò sapere perché non l'ho ancora provato, l'ho solo preso vi farò sapere comunque i denti non sembrano bianchissimi perché io comunque ho come un po' di persona lo smalto bicolore che nel senso che non perché si macchiano i denti perché vabbè, anche a me comunque si macchiano mangiando eccetera perché tutti noi abbiamo quei cibi che comunque ci macchiano i denti io comunque ho questo smalto bicolore nel senso che è sopra bianco e sotto è colorato è un po' più giallino e vabbè quindi che ci posso fare? niente, mi devo accontentare così neanche lavare i denti con dentifrice normale più il bicarbonato dopo è servito per sbiancare completamente quindi vuol dire che so così e ciao vabbè che tanto il dentista non l'ha sempre detto quindi niente comunque voglio usare quello e vedere come va poi altre novità Primark questo però per quanto riguarda altre cose questi bellissimi cavetti per il telefono questo è per un tipo di telefono questo togliete e avete il micro usb ok poi poi e questo anguri al costo di 4 euro sempre 4 euro l'altro e quello azzurro un attimo a chi lo prendo con l'ananas questo più caldo sarebbe il limone quello con l'ananas mi sa che non l'ho più beccato anche qua si toglie questo io che ho i telefoni col micro usb attacco il micro usb quindi alla fine ci vado bene gli stessi ok questi diciamo che sono cavi che non ho nel senso io avevo intenzione di cambiare telefono così perlomeno c'ho anche questo attacco certo bisogna sempre vedere se va bene se no al massimo lo compro su adx se va a fanculo poi poi e the phone splitter al pezzo di 3 euro ci sono varie figure io ho preso quella con i pop corn però sempre mangerecce questo in pratica lo mettete mettete questo cavo qua nella presa delle cuffie e così è sdoppiata le cuffie e così potete sentire in due la musica e questo va bene io l'ho presa per sdoppiare un'altra cosa però vabbè devo vedere se funziona non vi posso dire se veramente funziona poi poi gel nail blush set sono 4 pennelli al prezzo di 4 euro per fare nail art vediamo un po' se riesco a farli uscire così ve li faccio vedere bene il problema è sempre farli rientrare a rimortarci loro allora allora c'è il numero 4 il numero 2 il numero 6 e il numero 8 questo è il numero 4 poi il numero 2 dovrebbe essere quello più piccolo di sbieco di sbieco vedete questo invece è piatto ed è il 4 poi abbiamo il 6 che è sempre dritto per un attimino più grande del 4 e l'8 che è quello proprio più grande sempre dritto allora non vado pazza per questi pennelli quindi non credo di ricomprarli perché comunque per fare nail art eccetera mancano altri tipi di pennelli che mi sa che li mando a fare in culo ma li vado a comprare o dal negozio cinese a San Vittorolona perché li ho visti a San Vittorolona o yes a negozio cinese che in pratica è sopra c'è il ristorante cinese sotto un po' spostato c'è lui quindi già penso che avete capito mi ricordo più come si chiama però quello è poi concealer brush set questi qua sono due pennelli per applicare il correttore allora il 120 che è questo qua circola concealer cioè da mettere nelle zone circolari invece quest'altro qua è da mettere nelle zone di precisione qua come fa vedere la foto però alla fine secondo me sono stronzate tanto alla fine anche la parte sotto qua anche se è tonda sarebbe anche quella una parte di precisione quindi da usare l'altro pennello però se per loro va bene così ma tanto a meno non me ne frega niente che tanto alla fine faccio come dico io come sempre del resto poi 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 veniamo un po' di unghie finte veramente top nel senso top come colori li devo ancora provare allora questa qua 2 euro si chiama rainbow drop guardate quanto sono belle il colore stupendo veramente bello sono 24 dice con adesivo allora se c'è la colla ok ah si eccolo qua glue adesiva cioè colla adesiva 2 grammi allora 2 grammi molto probabilmente sarà quella piccolissima quindi quindi io vi consiglio sempre di dotarvi di un'altra colla un attimino più grande perché a me è capitato non queste però altre di fissarle con la colla della confezione però la colla non bastava ecco e quindi poi dopo siccome ho potuto fare una mano e mezza il resto no che cosa ho dovuto fare lo dovete staccare quindi vi consiglio di quando usate le unghie finte anche se qui dentro c'è la colla adesiva di avere anche un'altra un'altra colla perché non si sa mai andiamo avanti con altre unghie finte queste qua glitter chroming guardate quanto sono belle sfumano tutte amma mia quanto mi piacciono queste sono sempre 24 con la colla adesiva che sono sempre 2 grammi poi poi questa qua stile mermaid sempre 2 euro guardate mi piace un sacco il colorino con la striscia che poi la striscia che c'è in mezzo sfuma perché fa gialla arancione rosa molto bella sempre con la colla adesiva da 2 euro da 2 grammi scusate e sono sempre 24 poi poi abbiamo queste qua le candy sempre 2 euro sono sempre 24 unghie con la colla adesiva sempre da 2 grammi poi un'ultima proprio ultima un'altra glitter chroming queste invece costano 3 euro si chiamano galactic guardate quanto è bello sempre 24 unghie con la colla adesiva di 2 grammi allora queste quando le staccate sempre in acqua fredda le potete conservare però ricordatevi sempre una cosa poi quando le dovete riattaccare sempre la colla ok poi e con questo mollo questo video perché ne devo fare altri in cui vi faccio vedere altra roba sempre della praipark però ve la devo far vedere meglio con questo vi saluto ciao a tutti alla prossima un po' Grazie.